Sì, anche qui tenderei a non esagerare, è chiaro che se l'opposizione si trova a prendere la limonata però non fa un comizio insieme, soprattutto non presenta un progetto chiaro, perché non c'è quello. Di fronte a problemi che io credo che avremo e che continueremo ad avere seri nel Paese i problemi della sanità, i problemi dell'economia, la differenziazione dei poveri che diventano sempre più poveri, ci sono dei problemi grandi in questo Paese e secondo me la lettura che dà l'opposizione è una lettura debole, non si può mascherare dietro la bandiera dei diritti, spesso strumentalizzando i diritti per coprire le proprie divisioni interne. Allo stesso modo però se mi permetti credo che anche il centrodestra che ottiene un risultato clamoroso e evidentemente di Vittoria non si possa nascondere dietro questo 62% per non dare risposte concrete, per non mantenere unione perché le frizioni che si sono sentite nelle ultime settimane rischiano di minare un po' quel clima e soprattutto non dare risposte concrete a quegli stessi problemi. Cioè se il centrodestra pensa di risolvere tutto con la debolezza dell'opposizione sbaglia, dovrà dare risposte ai suoi cittadini e ai suoi elettori che si aspettano cose concrete, cambiamenti concreti rispetto anche alle promesse elettorali che sono state fatte.